il canto trentesimo dell'inferno ha un ruolo strutturale di particolare importanza in quanto chiude una delle sezioni più ampie e complesse dell'intero poema quella relativa al cerchio dei fraudolenti trattazione che si estende per ben 13 canti dal diciottesimo al trentesimo nella decima e ultima bogia sono puniti i falsari tutti deturpati da orribili malattie i falsatori di metalli cioè gli alchimisti sono stati presentati nel canto ventinovesimo puniti con una forma di lebra con scabbia che provoca un tormentoso e insanabile prurito tra questi dante ha incontrato due personaggi toscani noti ai suoi tempi uno di arezzo griffolino presumibilmente così ci dicono gli antichi commentatori l'altro fiorentino capocchio nel canto ventinovesimo lo spettacolo desolante dei corpi dei falsificatori straziati dai morbi è illustrato attraverso due similitudini iperboliche la prima presenta l'accumulo dei malati della valdichiana della maremma e della sardegna poi invece abbiamo un'immagine mitologica tratta dalle metamorfosi ovidiane la terribile pestilenza che uccise tutti gli animali e gli esseri umani sull'isola di egina nel testo di ovidio la pestilenza è attribuita all'ira dell'ingiusta giunone anche in opposizione a tale ira ingiusta credo che debba essere letto il riferimento alla giustizia divina poco sopra nello stesso canto ventinovesimo ai canti ai versi 55 e 57 la vela ministra dell'alto sire infallibile giustizia punisce i falsador che qui registra se gli effetti della pestilenza di egina sono superati dalla realtà della decima bolgia lo è anche la sua causa che non è l'ingiusta ira della divinità pagana ma la giustizia infallibile del dio cristiano il nuovo canto il nostro canto trentesimo si apre in modo solenne con quella che sembra inizialmente una digressione mitologica estesa per ben sette terzine solo ai versi 22 e 27 il lettore potrà capire che i due episodi mitologici citati costituiscono il veicolo di una similitudine il cui tenore cioè il cui punto di riferimento nel nell'aldilà rappresentato da dante è appunto un aspetto di questa realtà oltremondana nel tempo che junone era cruciata per semele contro il sangue tebano come mostrò una e altra fiata e con l'ira iniqua di giunone che colpisce gli innocenti per vendicare le offese subite da altri era implicita come ricordavo nel canto precedente a proposito della peste di egina ma ora viene messa in primo piano qui si tratta dell'ira di giunone provocata dalla tebana semele figlia di cadmo di cui giove marito di giunone si era innamorato e che aveva resa gratta il racconto viene ancora da ovidio mossa da gelosia giunone decise di punire semele a causa dell'inganno di giunone la povera semele verrà poi incenerita da giove stesso ma dall'unione tra semele e giove nascerà nonostante la morte di semele nascerà il divino bacco il quale viene affidato alla sorella di semele ino e naturalmente quando il piccolo la piccola divinità cresce e diventa famosa in tutta la grecia la zia inorgoglisce di avere un nipote divino provocando nuovamente l'ira di giunone allora la regina degli dei decide di colpirla di colpire anche ino e per realizzare il suo disegno scende negli inferi dove raggiunge le furie la furia tisifone in particolare si reca alla casa di atamante il marito di ino e quindi la nella reggia di atamante di ino e getta nel petto dei due sposi un veleno furioso furiale venenum dice ovidio atamante impazzisce e vedendo la moglie ino con in braccio i due figli le arco e melicerte crede di vedere invece una leonessa con due cuccioli si lancia allora contro di loro come in una battuta di caccia li raggiunge e strappa dalle braccia della madre le arco e lo uccide sbattendolo contro una roccia ino con l'altro figlio in braccio anche lì impazzita in fuga dal marito omicida finisce per gettarsi da una rupe nel mare ecco allora che riprendiamo avvertiti di queste conoscenze mitologiche che il lettore in qualche modo deve avere per comprendere i riferimenti danteschi riproviamo a leggere dunque nel tempo che iunone era cruciata per semele contro il sangue tebano come mostrò una e altra fiata atamante divenne tanto insano che veggendo la moglie con due figli andar carcata da ciascuna mano gridò tendiam le reti sicchio pigli la leonessa e leoncini al varco e poi distese i dispietati artigli prendendo l'uno cavea nome le arco e rotollo e percosselo ad un sasso e quella s'annegò con l'altro cargo ed ecco che subito dopo questo episodio della follia omicida di atamante abbiamo un nuovo episodio mitologico ancora di provenienza ovidiana si tratta adesso di ecuba la moglie di priamo la seconda moglie di priamo che perse il senno ancora un caso quindi di follia di pazzia di perdita del senno in questo caso alla vista dei figli morti e quando la fortuna volse in basso l'altezza dei troian che tutto ardiva sì che insieme col regno il re fu casso ecuba trista misera e cattiva poscia che vide polissena morta e del suo polidoro in sulla riva del mar si fu la dolorosa corta forse nata latrò sì come cane tanto il dolor le fe la mente torta ora in quanto origine di roma nella commedia i troiani sono sempre onorati tuttavia troia è anche sempre immagine di superbia giustamente punita come racconta ancora uvidio subito dopo la caduta di troia i guerrieri greci partirono verso la patria portandosi dietro le donne troiane prigionieri tra queste era ecuba la seconda moglie di priamo dopo la tragica morte di polissena o polissena come la chiama dante ecuba si reca verso il mare per attingere l'acqua con cui lavare il corpo della figlia quando vede invece sulla riva del mare il cadavere dell'altro figlio del figlio più piccolo polidoro che era stato inviato presso il re di traccia di traccia polinestore perché sfuggisse ai pericoli della guerra ma invece polinestore saputo della caduta di troia aveva ucciso il ragazzo per impossessarsi delle sue ricchezze e aveva gettato il suo corpo in mare la corrente l'aveva portato proprio alla riva di quella spiaggia in cui ecuba stava andando ad attingere l'acqua per lavare il corpo di polissena nel racconto di ovidio ecuba dopo aver perso tutto perde anche la forma umana trasformandosi in un cane infatti dopo essersi vendicata accecando polinestore mentre fugge dai traci dal suo muso invece di parole escono latrati nella versione dantesca invece ecuba non diviene un cane ma perde la ragione e la parola riducendosi a latrare come un cane in ovidio in realtà non c'è traccia di pazzia nel caso di ecuba ma solo di ira e di vendetta ma la pazzia era necessaria a dante per abbinare l'episodio di ecuba a quello di atamante e quindi indica la pazzia di ecuba attraverso l'aggettivo forsennata appunto fuori di senno e con l'espressione la mente torta ora dopo la lunga evocazione dei due episodi ovidiani solo a questo punto il lettore può comprendere che si tratta di una doppia similitudine che sottolinea il superamento di qualsiasi precedente da parte della realtà infernale ma né di tebe furie né troiane si vide ormai in alcun tanto crude non punger bestie non che membra umane quant'io vidi in due ombre smorte e nude che mordendo correvan di quel modo che il porco quando del porcil si schiude secondo una recente e innovativa interpretazione del passo da cui sono pienamente convinto le furie di tebe e troiane non sono atamante ed ecuba come invece voleva l'interpretazione tradizionale ma sono le furie personificazioni pagane del rimorso e della follia omicida le quali pungono cioè stimolano provocando in loro sofferenza gli atti inconsulti atamante ed ecuba o altri personaggi dei miti tebani o troiani il senso complessivo sarebbe allora che nel mondo antico non si videro mai furie stimolare così orribilmente nessun essere umano e perfino nessuna bestia come sono tormentosamente stimolati interiormente questi due dannati i quali correvano mordendo come fa un maiale uscito dal porcile alla ricerca del cibo i maiali erano considerati animali demoniaci sulla base di un celebre passo evangelico in cui gesù libera due indemoniati e fa entrare i demoni che li possedevano proprio in una mandria di porci così queste anime sono come porci indemoniati posseduti non da furie pagane ma da demoni che dio come gesù nell'episodio evangelico ha fatto entrare in loro quali strumenti della giustizia divina e uno di questi dannati si avventa su capocchio lo avventa e lo trascina via facendogli strisciare il ventre al fondo della volge luna giunse a capocchio e in sul nodo del collo lassannò sicché tirando grattar li fece il ventre al fondo sotto ora capocchio come ricordate dal canto precedente è affetto da lebra scabbiosa e impegnato disperatamente a grattarsi ora paradossalmente il grattare invece proprio l'effetto di una ulteriore punizione e forse chissà dante avrà voluto alludere anche a questo grattare quando in paradiso 17 nell'investitura solenne e profetica di cacciaguida ritornerà questo verbo e però rimossa ogni menzogna tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dove la rogna sarebbe una delle tante risonanze metatestuali e metaletterarie che incontreremo in questo canto mentre capocchio dunque trascinato via griffolino darezzo rimane dove era l'altro dei due alchimisti e svela subito a dante l'identità dell'ombra che ha trascinato via il povero capocchio quel folletto e gianni schicchi e va rabbioso altrui così conciando ora folletto viene dal francese provenzale folle e significa demonio e ciò è perfettamente coerente con la possessione diabolica cui allude sia l'immagine delle furie sia la similitudine del porco il dannato è posseduto da un demonio e si comporta come un demonio tormentando gli altri dannati gianni schicchi e affetto da rabbia e va rabbioso altrui conciando e affetto da rabbia rabbioso viene definito e anche in questo caso come in quello della lebra scabbiosa che affligge gli alchimisti si tratta di una malattia descritta nei trattati medici e nelle enciclopedie come il famoso dei proprietati bus rerum di bartolomeo anglico la rabbia spiegano gli enciclopedisti e trattatisti di materia medica è trasmessa dai cani all'uomo attraverso il morso o la saliva anche questa patologia è causata dalla corruzione e alterazione degli umori e degli spiriti se il cane morde un uomo la sua saliva avvelenata penetra nel corpo dell'uomo sino a raggiungere il cervello rendendo rabbioso anche chi è stato morso così coloro che sono morsi da un cane rabbioso dice bartolomeo anglico irascuntur et etiam sicut canes latrant proprio come dante diceva di ecuba ma anziché su giannis chicchi di cui forse è informato essendo come vedremo un personaggio fiorentino dante chiede notizie sull'altro folletto ricordate erano due le anime paragonate appunto al porco che esce del porcile e si tratta di ancora un personaggio ovidiano mirra qui però non abbiamo un personaggio presentato in una similitudine ma si tratta proprio di una delle anime punite dante concentra in pochi versi il lungo racconto di ovidio selezionando solo due elementi del mito l'amore scellerato di mirra per il padre e la falsificazione della persona compiuta per soddisfare tale desiderio ed egli a me quell'è l'anima antica di mirra scellerata che divenne al padre fuor del dritto amore amica questa peccar con messo così venne falsificando se in altrui forma ora mirra nonostante questo gesto non è fra i lussuriosi perché il peccato di frode che ha commesso di falsificazione della persona è più grave di quello di lussure dunque viene punita per questo peccato e non è fra i traditori perché pur avendo tradito la fiducia del del padre e ingannando la morte non lo ha tradito cioè ingannandolo appunto a scopo appunto sessuale non lo ha tradito a morte come invece sono i traditori del nono cerchio dunque mi raggiunse a peccare di lussuria incesto con il padre contraffacendo se stessa falsificando se con l'aspetto forma di un altro allo stesso modo continua a spiegare griffolino l'altro folletto cioè gianni schicchi finse di essere buoso donati facendo testamento e dando al testamento valore legale l'altro che la sen va sostenne per guadagnare la donna della torma falsificare in sé buoso donati testando e dando testamento norma di gianni schicchi che era un cavaliere fiorentino morto prima del 1280 i commenti antichi raccontano che per la sua capacità di imitare le persone simone donati lo avrebbe convinto ad assumere l'identità di suo zio buoso donati morto senza aver fatto testamento gianni si finse quindi buoso morente e detto al notaio un testamento favorevole a simone facendo inserire però visto che c'era anche delle clausole favorevoli a se stesso come il lascito di denaro e il lascito della migliore cavalla di buoso appunto la donna della torma ma più conta che la figura etimologica testando testamento unita al tecnicismo giuridico norma enfatizza il valore di sacralità dell'atto legale come fissazione di una verità e quindi enfatizza la gravità della sua falsificazione dunque abbiamo da una parte la lussuria dall'altra l'avarizia che portano questi peccatori a falsificare la propria identità personale mettendo a rischio ogni legge e ogni possibilità di convivenza civile costoro che si sono privati della loro stessa identità per assumere ingannevolmente quella di altri sono condannati a una sorta di pazzia rabbiosa che li priva della coscienza stessa della propria identità e li degrada alla condizione di bestia ora che i due dannati sono andati via dante rivolge lo sguardo verso gli altri dannati e ne vede uno dalla forma particolare paragonabile a quella di un liuto io vi di un fatto a guisa di leuto pur che li avesse avuta l'anguinaia tronca dall'altro che l'uomo ha forcuto dunque il dannato è il ventre gonfio perciò la parte superiore del corpo appare come un liuto il ventre prominente come la cassa la testa il collo il torace smagriti come il manico dello strumento musicale naturalmente la similitudine vale solo qualora si consideri la parte superiore del corpo tralasciando le gambe l'altro che l'uomo ha forcuto il liuto era uno strumento che aveva un simbolismo estremamente positivo nella cultura musicale medievale come tutti gli strumenti a corde e se ne davano persino delle allegorizzazioni cristologiche naturalmente una tale allusione un tale paragonico liuto qua può avere soltanto un senso parodico oppure quello di una falsa apparenza che verrà poi svelata in effetti come vedremo il suono emesso da questo dannato non è certo quello di un liuto il narratore spiega subito le cause di questa conformazione che è una nuova patologia l'idropesia che rende le membra difformi fra loro a causa del liquido corrotto che costringe il dannato a tenere le labbra aperte come fa chi soffre di febbre etica la grave idropesia che si dispaia le membra con l'omor che mal converte che il viso non risponde alla ventraia faceva lui tener le labbra aperte come l'etico fa che per la sete l'un verso il mento e l'altro in su rinverte anche l'idropesia è una malattia per la quale dante sembra attingere ancora a bartolomeo anglico in effetti un tipo di idropesia la timpanite presenta alterazioni dell'aspetto corporeo perfettamente corrispondenti a quelle descritte da dante il ventre si allarga mentre il collo e le estremità si smagriscono anche la sete inestinguibile era attribuita tipicamente all'idropico il termine omor indica i liquidi interni i quali si trasformano nella malattia in modo alterato e corrotto l'etico invece è colui che soffre di febbre etica cioè continua che procura una sete tormentosa dunque la similitudine come l'etico fa introduce un elemento preso da un'altra malattia in aggiunta all'idropesia a conferma che le malattie di questi dannati sono costruite per superamento rispetto alle malattie terrene anche attraverso l'accumulo di sintomi provenienti da diverse patologie il dannato così osservato rivolge la parola ai viandanti con un tono tipico delle iscrizioni sepolcrali che invitano alla pietà per il defunto ma anche un tono allusivo al linguaggio cristologico delle lamentazioni di geremia o voi che senza alcuna pena siete e non so io perché nel mondo gramo disse gli a noi guardate e attendete alla miseria l'appello punta al fine patetico di suscitare pietà anziché sulla propria colpa il dannato richiama l'attenzione sulla sua penosa condizione nell'inferno il mondo gramo maestro adamo così si auto identifica è stato variamente identificato dalla dagli studiosi ma oggi è condivisa l'opinione che si tratti di un personaggio citato in un documento bolognese del 1277 come magistro adam de anglia familiare comitum de romena inoltre lo si identifica con uno spenditore di monete false mandato dai conti di romena proprio loro i quali secondo il racconto del cronista paolino piero pieri fu arso a firenze nel 1281 questo personaggio per di più che sia e com'è questo per il personaggio storico perfettamente identificato e ben noto a dante dato che appunto in quel momento era era giovane viveva a firenze e sarà stato certamente colpito impressionato da questo fatto ma porta anche il nome di adamo del primo uomo ed è l'ultimo dannato dell'ultima bolgia delle malebolge questo dunque gli conferisce anche un valore per così dire emblematico in quanto come ricorderete dal canto undicesimo dell'inferno la frode e dell'uomo proprio male adam presenta la propria condizione con espressioni lamentose e allude all'episodio evangelico del ricco che da vivo banchettava ogni giorno mentre nel fuoco infernale bramerà in vano una goccia d'acqua per alleviare la sete questa allusione dovrebbe ribadire la giustizia della punizione infernale invece il dannato la usa in modo patetico e ingannevole per suscitare pietà negli interlocutori l'alterazione della realtà operata dai peccatori diventa ora strumento per la loro punizione infatti la giustizia divina presenta all'immaginazione del dannato per accrescere la sua sete tormentosa i ruscelletti che scendono dai colli del casentino li ruscelletti che di verdi colli del casentino discendono giù dicendo un giuso in arno facendo i loro canali e freddi e molli sempre mi stanno innanzi e non in d'arno che l'immagine loro vie più masciuga che il male un dio nel volto mi discarno si tratta di una variazione allucinatoria del supplizio di tantalo e qui anche la funzione di accrescere la pena attraverso il ricordo dei luoghi in cui il dannato peccò ma anche nel momento in cui riconosce l'azione della giustizia adamo si lamenta pateticamente per la sua durezza ma in ogni caso ammette la propria colpa con nuovo uso dell'essico della falsificazione e ricorda anche la punizione già subita dalla giustizia terrena ivi e romena laddovio falsai la lega sugellata del batista per chi il corpo su arso lasciare adamo ammette di essere un falsificatore di monete e in particolare della loro lega di metallo il valore delle monete era garantito dalla quantità fissa di metallo nobile oro o argento nella lega metallica usata diminuendo questa quantità di metallo nobile si ottenevano monete false in quanto contenevano meno metallo nobile di quanto nominalmente dichiarato e garantito dalle immagini e dai simboli dell'autorità statale che suggellavano le monete in altre parti del poema dante è molto severo con il fiorino il maladetto fiore lo chiamerà in canto nono nono del paradiso in quanto il fiorino è oggetto di desiderio smodato con conseguenze devastanti nella vita sociale e politica qui invece riconosce la sacralità della moneta l'effigie di san giovanni battista e il segno sacro che stabilisce il rispetto della verità come fondamento di ogni legge e convivenza umana l'alterazione della composizione della moneta viene punita con l'alterazione degli umori interni che provoca l'idropisia a questo punto maestro adamo manifesta un violento desiderio di vendetta nei confronti di coloro che lo indussero al peccato cioè guido alessandro e loro fratello aghinolfo dei conti guidi di romena come ricordavo secondo i commentatori antichi anche e anche loro insieme con il famoso spenditore bruciato nel rogo furono condannati nel processo il 1281 ma in contumacia e furono e riuscirono a sfuggire alla giustizia della città il maggior desiderio di adamo ancora più forte di quello di bere è quello di vederli puniti all'inferno per una tale visione dice iperbolicamente rinuncerebbe ad alleviare la sete di cui si è tanto lamentato sinora ora guido secondo era morto in effetti prima del 1292 e dunque la sua anima si trova già nella stessa bolgia dei falsari ma ad adamo non basta la notizia che gli è giunta attraverso le anime che vagano dei falsatori di persona non gli basta sapere che si trova lì vorrebbe vederlo il suo desiderio di vendetta si sazierebbe solo con la visione così proclama che se solo fosse ancora tanto agile da potersi muovere anche solo una velocità minima come quella di un oncia in cent'anni si sazierebbe si sarebbe già messo in cammino per cercarlo tra i dannati della bolgia un oncia e una misura minima di circa due centimetri e mezzo quindi potete capire due centimetri ogni cento anni sarebbe già qualcosa perché avrebbe la possibilità di saziare questo suo desiderio ma solo alla fine adamo spiega il motivo del risentimento che prova contro i conti guidi in quanto essi lo convinsero a coniare fiorini che anziché 24 carati d'oro ne avevano 21 21 d'oro più tre invece di metallo vile o mondiglia la purezza dell'oro si valuta infatti in carati e l'oro puro ne ha 24 io son per l'oro trassifatta famiglia cioè sono punito qua per colpa loro e cioè essi loro mi indussero a batterli fiorini cavean tre carati di mondiglia e la mondiglia è appunto ciò che resta dopo che qualcosa è stato pulito o mondato cioè gli scarti ma in questo caso i metalli vili che erano inizialmente in lega con loro che vengono invece che quando loro viene raffinato vengono ora tornando a bartolomeo anglico e alla sua trattazione della idropisia bartolomeo indica proprio la mancata espulsione delle superfluitates come una delle cause dell'idropisia la scelta di tale malattia per i falsatori di moneta va dunque forse collegata anche con questo aspetto dato che il peccato consiste proprio nel non espellere le superfluitates la mondiglia dall'oro del fiorino ora esaurito il discorso di adamo dante sposta l'attenzione su altri due dannati che si trovano proprio accanto al falsario e manifestano però dei sintomi diversi rispetto a lui particolare esalano dei vapori fummano come mani bagnate l'inverno e io a lui chi sono i due tapini che fuman come man bagnate l'inverno giacendo stretti ai tuoi destri confini mentre gli alchimisti sono seduti e i falsatori di persona vagano questi due invece giacciono sdraiati per terra e dunque anche maestro adam dovrebbe essere in questa posizione anche se non viene detto esplicitamente il dannato risponde alla domanda di dante collocando questi due prima della sua epoca dicendo che li ha trovati già lì quando lui è giunto nell'inferno e fissandoli però in una sorta di eterna immobilità qui li trovai e poi volta non dierno rispuose quando piovvi in questo greppo e non credo che diano in sempiterno con il gusto della delazione tipico del basso inferno adamo rivela l'identità dei due peccatori che sono falsificatori della parola la prima è un personaggio biblico la falsa cioè la bugiarda caccusò gioseppo si tratta della moglie dell'egiziano putifarre capitano delle guardie del faraone che aveva comprato giuseppe figlio di giacobbe come schiavo secondo il genesi la donna si invaghi di giuseppe e tentò di sedurlo ma lui virtuosamente la respinse la donna si vendicò allora accusandolo falsamente di aver cercato di violentare il secondo dannato invece riporta le storie di troia si tratta del greco sinone il quale raccontando sotto giuramento una serie di menzogne convince i troiani a portare il cavallo di legno pieno di guerrieri dentro le mura della città provocandone la caduta secondo il racconto del secondo libro dell'eneide l'altro è il falso sinone greco di troia ora la presentazione di questi due dannati da parte di adamo è stata particolarmente sprezzante sia nell'indicare la malattia sia nell'accusare i due dei loro peccati in particolare lo simoro greco di troia allude sarcasticamente al fatto che priamo offria sinone in ricompensa delle sue rivelazioni di far parte del popolo troiano ora il canto come ricordate presentava all'inizio la bestiale follia di ecuba segno finale della caduta dell'altezza dei troiani ma dante vuole anche ricordare che di tale caduta non sono i greci a poter vantare la gloria essa risponde a un disegno provvidenziale e realizza una superiore giustizia divina attraverso l'operato imperscrutabile della fortuna i greci ottennero la vittoria non per superiorità in guerra ma solo per le menzogne di sinone e per gli inganni di ulisse quanto alla malattia che affligge questi due dannati appunto la moglie di putifarre e sinone ad amo precisa per febbre aguta gittan tanto leppo di solito i commentatori spiegano che a causa della febbre acuta emettono tali esalazioni puzzolenti cioè tanto leppo vorrebbe dire tantani tali esalazioni puzzolenti in realtà leppo è una parola rarissima c'è solo questa occorrenza in dante dunque forse occorrerà un supplemento d'indagine su cui torneremo più avanti in modo del tutto inatteso uno dei due tapini offeso per il disprezzo con cui è stato presentato da damo lo colpisce con un pugno al ventre questa è una una svolta nel canto un colpo di scena totalmente imprevedibile e l'un di lor che si recò a noia forse 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 d'essere nomato sì oscuro col pugno li percosse l'epa croia quella sono come fosse un tamburo il ventre di adamo dunque non suona come un liuto a cui somigliava per l'aspetto ma come un tamburo considerato nella cultura medievale uno strumento diabolico dunque si passa dalle false apparenze alla verità e gli inganni di maestro adamo sono gradualmente svelati va però sottolineato che il ventre gonfio e teso è tipico di due diversi e opposti tipi di idropisia uno si chiama ascite e l'altro si chiama timpanite questo non secondo la medicina contemporanea secondo i trattati medici e le enciclopedie medievale in particolare ancora il de proprietatibus rerum di bartolomeo anglico nel primo caso quindi nel caso della ascite il ventre percosso suona come fosse un otre nel secondo come fosse un tamburo timpanum per l'appunto il suono prodotto dal ventre di adamo corrisponderebbe dunque alla timpanite ma le cose in realtà non sono così semplici come vedremo nel frattempo quel che conta è che adamo colpito al ventre da un pugno di sinone restituisce prontamente il colpo e maestro adamo li percosse il volto col braccio suo che non parve min duro ora il verbo percuotere è in anafora e si ha un forte parallelismo fra i due versi li percosse l'epa croia e li percosse il volto questo verbo facendo ancora un salto nei momenti meta letterari del paradiso sarà applicato alla predicazione di san domenico che percuote gli ster pieretici come un torrente in piena nel canto dodicesimo e nel canto diciassettesimo ancora sarà paragonato sarà usato per lo stesso poema di dante che sarà come un vento che percuote le cime più alte si tratta dunque di un altro piccolo indizio delle risonanze metatestuali e meta letterarie di questo canto in ogni caso adamo reagisce fisicamente e aggiunge anche un commento sarcastico che si collega al suo lamento precedente è vero che non può spostarsi ma può comunque muovere almeno il braccio per rispondere alle percosse del dannato che gli affianco ancor che mi sia tolto lo muover per le membra che son gravi o io il braccio a tal mestiere sciolto e sinone però non è meno pronto risponde con la tecnica retorica della ripresa di parole e rovesciamento nel senso tipica del genere comico della tenzo così ad adamo che si vanta di avere il braccio sciolto rinfaccia di non averlo avuto così sciolto quando andava al rogo con le mani legate e invece di averlo avuto fin troppo sciolto e rapido quando coniava le monete false onde rispose quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto ma sì e più l'avei quando coniavi e si apre così uno scambio di battute tra i due dannati costruito con la tecnica della tenzone ripresa e rovesciamento di parole anafore antitesi perifrasi e perbo adam incassa il corpo il colpo verbale di sinone ma reagisce ancora rinfacciandogli i suoi peccati e l'idropico tu di verdi questo ma tu non fosti si ver testimonio la vedel la vedel ver fosti a troia richiesta dunque sinone ribate con un verso perfettamente bilanciato nel primo emistichio ammette di aver detto il falso nel secondo accusa l'altro della falsificazione della moneta quindi aggiunge all'antitesi l'iperbole esagerando in contrasto con l'unicità del suo peccato il numero iperbolico di quelli di adamo sio dissi il falso e tu falsasti il conio disse sinone e son qui per un fallo e tu per più calcun altro dimone il movimento di questa battuta di sinone soprattutto della prima e lo stesso della battuta di adamo quindi ammissione della colpa e rinfaccio della colpa altrui intensificato poi retoricamente questa tecnica come vi dicevo è tipica del genere della tenzone e si trova anche nell'unico sonetto interessantissimo che ci è rimasto di una tenzone tra cecco angiolieri e proprio il nostro dante a un sonetto di dante che purtroppo abbiamo perduto cecco angiolieri rispondeva appunto con questa tecnica è vero io sono così come tu mi accusi ma tu sei cosa se io desno con altrui e tu viceni se io mordo il grasso e tu nessù gillardo se io son fatto romano e tu lombardo e così sono quattordici versi tutti così ve ne ho letto solo solo tre quindi è proprio una tecnica che qui viene perfettamente ripresa se io dissi il falso e tu falsasti il conio ora oltre che con cecco angiolieri dante aveva praticato questo genere in una tenzone con forese donati di cui ci restano tre sonetti di ciascuno dei due perciò con la disputa tra adamo e sinone forse dante sta alludendo anche a queste sue esperienze letterarie precedenti secondo quel canone di di appunto attraversamento delle proprie esperienze letterarie che la cui importanza c'è stata segnalata da quel saggio fondamentale di gianfranco continui alle metà del secolo scorso ma adamo risponde a sua volta enfatizzando la fama universale dell'unico peccato di sinone ricorditi sper giuro del cavallo rispose quel cavea infiata l'epa e si e ti reco che tutto il mondo salvo sinone muove ancora dalle ultime parole dell'avversario rovesciando l'augurio malevolo e te sia reo in e te sia rea dopo essersi rinfacciati i peccati adesso i due passano a rinfacciarsi la condizione infernale e così ricollegandosi alla battuta iniziale di adamo sinone risponde e te sia rea la sete onde ti crepa disse il greco la lingua e l'acqua marcia che il ventre innanzi agli occhi si tassiepa sinone dunque ricorda ad adamo gli altri sintomi della sua malattia infernale tra cui la sete di cui adamo si era lamentato inizialmente con dante e si esprimeva anche nelle allucinazioni li ruscelletti diceva adamo mi stanno sempre innanzi ora e sinone invece gli rinfaccia che innanzi agli occhi gli sta in realtà l'acqua marcia che gonfia il ventre tanto da impedirgli la vista come se fosse una siete questi versi sono però molto importanti per definire la malattia di adamo la sete la gravità delle membra e le difficoltà di movimento sono sintomi di ogni tipo di idropiesia il ventre gonfio è proprio sia della ascite sia della timpanite ma il suono del tamburo invece trova riscontro soltanto nella timpanite come anche l'assottigliamento del busto e del volto e invece contraddittoriamente l'acqua marcia è compatibile solo con l'ascite in quanto nella timpanite il gonfiore del ventre non è causato dalla ritenzione dei liquidi corrotti ma dalle ritenzioni gassose la grossa fumositas la chiama bartolome manchi ora qual è il motivo di queste contraddizioni a mio avviso e che le patologie infernali si disferenziano da quelle terrene non solo per l'intensità per esempio la gravitas dell'idropico diventa qua totale immobilità ma anche perché accumulano gli effetti di mali diversi gli alchimisti soffrono di scabbia ma anche di lebra i falsari di forme diverse di idropisia la ascite e la timpanite e ad amo pure di allucinazioni inoltre il suo atteggiamento era paragonato a quello dell'etico cioè di chi soffre di febbre etica dunque i sintomi sono accumulati e persino contradditori per segnalare la superiorità delle malattie infernali rispetto a quelle terrene ma c'è anche un altro sintomo la sete che crepa la lingua niente di simile si trova in realtà sull'idropisia nei trattati medici invece se ne parla spesso per i diversi tipi di febbre per cui si parla della lingue asperitas ma subito anche ad amo rinfaccia sinone la malattia ricordandogli l'arsura il mal di testa la sete inestinguibile allora il monetier così si squarcia la bocca tua per tuo mal come suole che si o sete e o mor mi rinfarcia tu hai l'arsura e il capo che ti duole e per leccar lo specchio di narcisso non vorresti invitar molte parole la preziosa perifrasi lo specchio di narcisso per indicare l'acqua è accostata al verbo basso leccare quasi animalesco si tratta di una nuova allusione ovidiana ed è la prima volta che viene citato nel poema narciso è un'allusione che richiama le due ossessioni principali di adamo l'apparenza ingannevole e l'acqua anche per narciso l'acqua era fonte di desiderio di inganno di pena e di morte ma dante è tutto fisso ad ascoltare la disputa fra i due dannati e forse anche noi ci siamo fatti troppo assorbire da questo spettacolo retorico come da un perverso specchio di narciso ma è quel duro rimprovero di virgilio ad ascoltarli ed io del tutto fisso quando il maestro mi disse or pur mira che per poco che te con un mirisso i tale rimprovero sono stati date sono state date diverse interpretazioni ora in senso morale ora in senso metaletterario ma io credo che esse possano e debbano coesistere i due dannati mettono in scena una sorta di tenzone satirica e burlesca simile come abbiamo ricordato a quelle che dante aveva sperimentato con cieco angiolieri e con forese donati quando quest'ultimo sarà incontrato in purgatorio dante ricorderà una imprecisata colpa comune nel canto ventitresimo forse si allude proprio all'attenzione poetica dunque il rimprovero di virgilio anticiperebbe questa ritrattazione o palinodia che troveremo all'altezza di purgatorio 23 sul piano morale dante personaggio viene rimproverato perché il peccato dannato nell'inferno gli viene presentato perché lo riconosca e se ne allontani ma qui accade il contrario e gli si fa come assorbire dal male cedendo alla sua apparenza ingannevole come un narciso incantato il rimprovero di virgilio provoca però un'immediata comprensione del proprio fallo da parte di dante e suscita in lui una forte vergogna che gli impedisce di parlare vorrebbe scusarsi ma è talmente avvilito da non trovare le parole perciò tace ma tale incapacità di parlare in quanto segno della profonda vergogna e della consapevolezza della colpa ottiene il perdono da parte di virgilio quale colui che suo dannaggio sogna che sognando desidera sognare sicché quel che come non fosse agogna tal mi fecio non possendo parlare che disiava scusarmi e scusava me tuttavia e non mi crede a fare abbiamo qui un'ampia similitudine psicologica che richiama in causa colui che sogna di subire un qualche danno perciò mentre sogna desidera che queste sofferenze siano soltanto un sogno e in effetti è proprio così è ancora un gioco su apparenza e realtà su tra sogno e realtà che rovescia però la situazione della visione del maestro adamo dei ruscelletti del casentì in ogni caso la vergogna è il segno del pentimento perciò è sufficiente a ottenere il perdono la replica di virgilio è infatti rassicurante maggior difetto men vergogna lava e si annuncia qui ora che siamo alla fine quasi dell'inferno sia pure solo su un piano morale e non ancora religioso uno dei principi del purgatorio cioè la possibilità di purificarsi dai peccati grazie al pentimento di cui la vergogna è un primo segno virgilio aggiunge però una raccomandazione recuperando così in pieno il titolo di guida i desideri meno elevati spiega devono essere sempre controllati e guidati dalla ragione e fa ragione chi di sia sempre dal lato se più avviene che tutta accoglia dove si ingenti insimiliante piato che voler ciò udire e bassa voglia ora se il valore morale del rimprovero e della raccomandazione finale di virgilio è chiaro sul piano metaletterario le cose sono un pochino più complesse perché se è vero che il poeta attraverso tutta questa scena farebbe una palinodia rispetto alla propria precedente adesione al genere comico satirico è però anche vero che la attenzione fra adamo e sinone viene totalmente incorporata e assorbita dal testo della commedia dunque il genere satirico e burlesco non viene respinto ma è superato e insieme incluso inglobato nella commedia pluristilistica di dante in virtù proprio dei suoi fini superiori e salvifici la denuncia delle colpe deve essere compiuta con tutti i mezzi stilistici e retorici per il fine supremo di rendere gli uomini consapevoli del male e indirizzarli al bene bene adesso che abbiamo concluso questa presentazione del canto come consuetudine ne diamo una lettura continua tutti insieme inferno 30 nel tempo che junone era cruciata per semele contro il sangue tebano come mostrò una e altra fiata a tamante divenne tanto insano che veggendo la moglie con due figli andar carcata da ciascuna mano gridò tendiam le reti sì chiopigli la leonesse leoncini al varco e poi distesi dispietati artigli prendendo lunca vea nome le arco e rotollo e percosselo ad un sasso e quella s'annegò con l'altro carco e quando la fortuna volse in basso l'altezza dei troian che tutto ardiva sì che insieme col regno il re fu casso ecuba trista misera e cattiva poscia che vine che vide polissena morta e del suo polidoro in sulla riva del mar si fu la dolorosa accorta forse nata la trò sì come cane tanto il dolor le fe la mente torta ma né di tebe furie né troiane si vide ormai in alcun tanto crude non punger bestie nonché membra umane quanti ovidi in due ombre smorte e nude che mordendo correvan di quel modo che il porco quando del porcil si schiude luna giunse a capocchio e in sul nodo del collo la sannò sicché tirando grattarli fece il ventre al fondo sotto e la retin che rimase tremando mi disse quel folletto e gianni schicchi e va rabbioso altrui così conciando o dissio lui se l'altro non ti ficchi li denti addosso non ti sia fatica a dir chi è pria che di cui si spicchi ed elli a me quelli e l'anima antica di mirra scellerata che divenne al padre fuor del dritto amore amica questa a peccar con esso così venne falsificando se in altrui forma come l'altro che la sembra sostenne per guadagnar la donna della torma falsificare in sé buoso donati testando e dando al testamento norma e poi che i due rabbiosi fuor passati sovra cui io avea tenuto l'occhio tenuto rivolsilo a guardar gli altri malnati io vidi un fatto a guisa di leuto pur che li avesse avuta l'anguinaia tronca dall'altro che l'uomo afforcuto la grave idropesì che si dispaia le membra con l'omor che mal converte che il viso non risponde alla ventraia faceva lui tener le labbra aperte come l'etico fa che per la sete l'un verso il mento e l'altro ingiuri inverte o voi che senza alcuna pena siete e non so io perché nel mondo gramo disse gli a noi guardate e attendete alla miseria del maestro adamo io ebbi vivo assai di quel chi vogli e ora lasso un gocciol d'acqua abramo li ruscelletti che di verdi colli del casentin discendo ingiuso in arno facendo i lor canali e freddi e molli sempre mi stanno innanzi e non indarno che l'immagine lor vi è più masciuga che il male un dio nel volto mi discarno la rigida giustizia che mi fruga trage cagion del loco ovvio peccai a metter più li miei sospiri in fuga ivi e romena là dov'io falsai la lega suggellata del battista per chi io il corpo su arso lasciai ma se io vedessi qui l'animatrista di guido d'alessandro di lor frate per fonte branda non darei la vista dentro c'è l'una già se l'arrabbiate ombre che vanno intorno di corvero ma che mi val ch'io le membra legate se io fossi pur di tanto al con leggero ch'io potessi in cent'anni andare un'oncia io sarei messo già per lo sentero cercando lui tra questa gente sconcia con tutto che la volge undici miglia e mend un mezzo di traverso noncia io son per lor trassi fatta famiglia e mi indussero a batterli fiorini cavean tre carati di mondiglia e io a lui chi son i due tapini che fuman come man bagnati il verno giacendo stretti ai tuoi destri confini qui li trovai e poi volta non dierno rispose quando piovvi in questo greppo e credo che non diano in sempiterno l'una è la falsa che accusò gioseppo l'altro è il falso sinon greco di troia per fredde agù per febbre aguta gittan tanto leppo e l'un di lor che si recò a noia fosse forse d'esser nomato si oscuro col pugno li percosse l'epa croia quella sonò come fosse un tamburo e maestro adamo li percosse il volto col braccio suo che non parve menduro dicendo a lui ancor che mi sia tolto lo muover per le membra che son gravi o io il braccio a tal mestiere sciolto onde rispose quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto ma si e più l'avei quando coniavi e l'idropico tu di verdi questo ma tu non fosti si ver testimonio l'ave del ver fosti a troia richiesto si odissi il falso e tu falsasti il conio disse sinon e son qui per un fallo e tu per più calcun altro dimonio ricorditi sper giuro del cavallo rispose quei cavea infiata lepa e si e tireo che tutto il mondo sallo e te si area la sete onde ti crepa disse il greco la lingua e l'acqua marcia che il vento innanzi agli occhi ti si tassiepa allora il monetier così si squarcia la bocca tua per tuo mal come suole che si o sete e o mormi rinfarcia tu hai l'arsura e il capo che ti duole e per leccar lo specchio di narcisso non vorresti a invitar molte parole ad ascoltarli erio del tutto fisso quando il maestro mi disse or pur mira che per poco che te con un mirisso quando io sentì a me parlare con ira volsimi verso lui con tal vergogna che ancora per la memoria mi si gira qual è colui che suo dannaggio sogna che sognando desidera sognare sicché quel che come non fosse agogna tal mi fecio non possendo parlare che disiava scusarmi e scusava me tuttavia e non mi crede a fare maggior difetto men vergogna lava disse il maestro che il tuo non è stato però d'ogni e tristizia ti disgrava e fa ragion chi ti sia sempre al lato se più avvien che tu t'accoglia là dove si è in genti insimiliante piato che voler ciò dire e bassa voglia